Andiamo un po' a laricarti, amore mio sento la voglia di baciarti. Mi fa un effetto particolare, le gambe volano e cominciano a girare. Parliare così non costa niente, trovarsi insieme è la cosa più importante. Ma cosa importa se si fa tardi, balliamo un po' a laricarti. Ciao Enrico! L'orchestra suona a laricarti, questo è lo stile che piace a noi. Guardiamo un po' a laricarti, amore mio non vedo l'orante e abbracciarti. Mi fa un effetto particolare, le gambe volano e cominciano a girare. Parliare così non costa niente, questo è lo stile che fa divertir la gente. A cosa importa se si fa tardi, balliamo un po' a laricarti. L'orchestra suona a laricarti, questo è lo stile che piace a noi. Parliare così non costa niente, questo è lo stile che piace a noi. Parliare così non costa niente, questo è lo stile che piace a noi. Parliare così non costa niente, questo è lo stile che piace a noi. Parliare così non costa niente, questo è lo stile che piace a noi. Parliare così non costa niente, questo è lo stile che piace a noi. Parliare così non costa niente, questo è lo stile che piace a noi. Parliare così non costa niente, questo è lo stile che piace a noi. 52 anni avella così10 DA ORETA. Autore dei sorrisi